Avevo bisogno di un momento di pace e silenzio. Gli altri studenti non la smettono di farmi domande. Oh, povero caro. Ho un ospedale che brulica di incompetenti che mi martellano di domande insulse ogni secondo di ogni giorno. Ah, dottor Cox, il paziente alla 3 è setticenico. Antibiotici o vasopressori? Prima antibiotici. Questo non era male. Aspetta e vedrai. Oh, ha ricevuto la mia richiesta per dei camici più aderenti in prossimità del pacco? Grazie, Todd, per essere stato l'esempio di una questione che tu ignori. Non c'è di che.